Ecco Mata, Mata, Mata dentro l'area di rigore, Mata! Siete! La quarta rete! Vieni, vieni, vieni! Iniziato dal nostro bomber, Teddy Mata, il nostro capitano numero 10, 4 a 1. Arbitro, arbitro! Adesso c'è un ennesimo cambio della nostra panchina, Mr. Gabriele fa esordire il baby degli esordienti, Christian Fattore, ed esce il numero 5, Nicolò D'Angelo, esordisce il numero 18, Christian Fattore, degli esordienti. Il Mr. sta preparando un altro cambio, farà anche il suo esordio pellegrina Simone, con il numero 17. Grazie! 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 Grazie!